La dichiarazione di certezza assoluta che io faccio è che noi mai e poi mai andremo a prendere accordi con il centro-destra, sono i nostri nemici storici e quindi questo non avverrà mai, non andremo affatti con loro. Per quanto riguarda il resto noi auspichiamo che sia la sinistra a darci voti, voglio dire che noi assolutamente andiamo a vincere per cui sarà il compito dalla sinistra passare i suoi colpi.